No, è un piccolo video Ma che? Stiamo facendo i video Ma come cavolo è? Non me lo vedo, lo vedo che purtroppo ci ha ucciso Ci ha rimesso lì sulla prima casa E' una tazza che è veramente giusta Però è bravo Ma io che è bravo per fare alcune cose Ma lui non credo che Non è mai stato dentro un ufficio Non è mai stato dentro un ufficio Grazie